ciao ragazze oggi nuovo video sulle creazioni resina non sono niente di particolare ho fatto qualche qualche stampo un po misto niente stickers e niente rubina particolare ho fatto il video con il video ho fatto una colata di resina con lo stampino coi fiocchi che avevo comprato da me in the box che avete visto se avete visto il video acquisti e niente tra le altre cose mi ero accorta che avevo comprato questo e non l'avevo mai provato quindi sembrava al caso di provarlo vediamo un po adesso come come è venuto troverete solito tutti i caboccion misti e allottini sulla mia pagina etsy e quindi vediamo un po faccio vedere in primis questo purpurì di colori e ne ho fatto uno usando veramente una qualsiasi rimasuglio di colore infatti come si può vedere è in a no lì la si vede poco e doveva essere in tre colori c'è proprio un esagerazione potevo lavarmi le mani ma pazienza fatto qualche o beh fatto qualche fiocchetto mi sono auto creata anche degli stampi con a questo è venuto anche malissimo notare la differenza tristissima qualche stampo con la quella gomma siliconica avevo bisogno di questo direi che può prendere il bidone di fiocchetti assolutamente poi una base perché a me è un po simpatica con un bicolore una scritta che mi piacciono sempre tantissimo devo sempre solo trovare cosa farne abbiamo questa il colore sotto non so se si nota non l'ho fatto questa non va neanche non l'ho fatto colorando con gli acrilici ma ho usato un ombretto in polvere e vi dirò che l'effetto mi piace anche un sacco sembra lo stesso usato per lo stampo ma cosa si mimetizza poi questi ciondoli a pistola che sulla mia pagina e si come potete notare faccio direttamente anche delle o delle collane o degli orecchini posso farli sempre di tutti colori che preferite c'è rimasto lui pizzolini ciappi cadi voilà tutti questi colori qua sono fatti con l'ombretto perlato proviamo i micro i micro fiocchi che non distruggo tutto allora a parte le bolle che mi sono venute e qualche imperfezione si sono carini però sono rimasta troppo male per lo stampo e quindi ce l'ho troppo più sul personale qua come potete vedere chissà se lo fai vedere è pieno di bolle manteniamo buoni giusto questi e poi vediamo questi qua erano tanti cuoricini un po po diversi un po particolari sempre da usare magari per le creazioni tipo le custodie per i cellulari sono un po dislessica oggi sono svegliate le 5 per andare a lavorare non ci fate caso allora questo è il primo modello quindi con tutti i forellini poi abbiamo il secondo modello che è questo qua un po più particolareggiato nel senso che ha delle delle righe ma non sono stata colorarle in due colori perché sarei diventata matta quindi vi dirò mi piacciono anche discretamente cuoricini al lancio poi abbiamo questo con il disegno il particolare nel centro questi qua come potete vedere sono proprio piccini di comodi sono un po difficili da creare delle degli orecchini o dei ciondoli in generale perché diventerebbe più grande il il ciondolo dietro che tutto il caboccion e invece poi ci sono questi che in realtà avevo provato a colorare il cuoricino più grande ma ho sbavato completamente direi che potrei riprovarci l'unica cosa di questo che a differenza di altri non avevo visto questo problema pieno di bolle paurosamente pieno di bolle ma vabbè e niente direi che con questo ho terminato quindi non non vi ho fatto vedere nulla di particolare e soprattutto voilà e niente sto delirando non riesco a concludere il video niente vi saluto che faccio prima vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao